Ciao, ciao a tutti. Questo video è un po' un ripasso dei verbi riflessivi, ok? I verbi riflessivi li sapete già, non sono difficili, ma bisogna ricordarsi alcune regole, ok? Prima di tutto, cos'è un verbo riflessivo. Un verbo riflessivo è un verbo in cui l'azione viene compiuta dalla stessa persona che la riceve. Per esempio, farsi la barba, affeitarse. Io mi faccio la barba, allora io faccio la barba a me. L'azione di fare la barba, di tagliare la barba, la sto facendo io, ma la sto anche ricevendo io, ok? In spagnolo esistono anche i verbi riflessivi e funzionano uguali. Come funziona? Noi mettiamo un pronome riflessivo che quelli bisogna saperli a memoria. Quali erano i pronomi riflessivi? Io mi, tu ti, lui voglio lei, sì, noi ci, voi vi e loro sì. Ok? Allora, noi abbiamo adesso il nostro pronome riflessivo e poi dobbiamo mettere il verbo coniugato. In presente facciamo la coniugazione normale del verbo. Per esempio, lavarsi. Io dico io mi lavo, tu ti lavi, lui lei si lava, noi ci laviamo, voi vi lavate, loro si lavano. Quando lo facciamo in passato prossimo diventa un po' più difficile perché? Perché c'è una regola in particolare che dice che noi sempre che usiamo i verbi in passato prossimo, i verbi riflessivi, dobbiamo coniugarli usando il verbo ausiliare essere. Allora, se usiamo il verbo essere, il participio deve coincidere in genere e numero con il soggetto. Allora, se io in presente dicevo io mi lavo, in passato prossimo sarà io mi sono lavato. Se lo dice una donna, io mi sono lavata. Tu ti sei lavato o tu ti sei lavata. Lui si è lavato, lei si è lavata. Noi ci siamo lavati o noi ci siamo lavate, se sono solo donne. Voi vi siete lavati o voi vi siete lavate. Loro si sono lavati, loro si sono lavate. Allora, sempre sempre usiamo il verbo essere. Quello è molto importante quando facciamo un verbo riflessivo in passato prossimo, sempre con il verbo essere e facendo coincidere il participio in genere e numero. E poi in futuro, di nuovo è semplice, è semplicemente dobbiamo mettere il verbo coniugato in futuro. Allora, se in presente era io mi lavo, in futuro sarà io mi laverò, tu ti laverai, lui lei si laverà, noi ci laveremo, voi vi laverete e loro si laveranno. Alla fine non c'è una regola complicatissima, è semplicemente usare il pronome riflessivo e poi usare il verbo coniugato, ok? E tutto lì, non c'è più da dire con i riflessivi, bisogna solo praticarli, ok? E niente, statemi bene e non uscite di casa soprattutto e ci vediamo prossimamente. Ciao!